Salve, io sono Diego. Oggi ci dedichiamo alle tridi maggiori sul quarto set di corde, cioè sulla quarta, quinta e sesta corde. Come per gli altri set, la prima parte è dedicata alle diteggiature, mentre la seconda agli esercizi. Vi consiglio di eseguire l'esercizio in tutte le tonalità. Buon divertimento e noi ci vediamo alla prossima. Se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale e lasciate un bel like. Ciao da Diego! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!